Ueeh! Non fare la banana flambeee! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Ueeh! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi, missioni della settimana numero 5 di questa season 8 di Fortnite. Sono tutte molto facili, ma forse ce n'è una che potrebbe farvi storcere il naso, cioè completare il tracciato vicino a Borgo Allegro. Beh ragazzi, eccolo qua, volevo farlo insieme a voi per farvelo vedere. Il tracciato è proprio questo, come vedete sono alle spalle di Borgo Allegro, c'è già una girosfera e allora aspettiamo che parte il tempo e una volta che ci dà il via ci facciamo un bel giro e vediamo questo nuovo tracciato arrivato da pochissimo sul nostro Fortnite. 2 E si va ragazzi. Subito così con la giro. Attenzione. Bisogna passare in mezzo ai checkpoint. Andiamo? Buona così. Buona così, buona così, non è molto difficile. Almeno fino adesso. Aia, questa è dura. Bisogna attaccarsi. Ok. Teniamoci attaccati. Bisogna passarlo, aiutiamoci col rampino. Molto bene. Forza, forza. Qua possiamo sfruttarlo così, vediamo se ce la facciamo. Buono. E portiamocela a casa raga, vediamo con che tempo. In 35 secondi, nice. Nice. Beh ragazzi, questo era il tracciato per la sfida. Se fate un tempo più alto del mio, più basso del mio, ditemelo. Noi ci vediamo in live. Ciao! Noi ci vediamo in live. Noi ci vediamo in live. Ciao! Ciao ciao!